Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Sulla A1 fino alle 18 per manifestazione sportiva chiuso il tratto tra Barberino e Aglio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di varico Baccheraia e Aglio. Sulla Fipili in direzione mare chiusa l'entrata di Montelupo Fiorentino. Per le notti del 9 aprile e del 10 aprile in orario 22.6 chiusura della carreggiata per lavori tra Genestra Fiorentina e Empoli Est in entrambe le direzioni. In A12 fare attenzione al forte vento segnalato tra Versilia e Colle Salventi. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!